Arrivo, arrivo. Ma sai cosa? Mi è venuto questo flash, ma noi ci siamo conosciuti a Roma. Non mi ricordo in quale occasione, però ci siamo conosciuti. Io ero con Settimio Beneduzzi, se non sbaglio, fotografo. Sì, 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 eravamo in un, mi ricordo, un locale. Ti ricordi quando si andava nei locali? Era una roba pazzesca nei locali, sì. Mi ricordo se eravamo senza mascherina, ma parliamo di un po' di anni fa. Sì, abbiamo parlato un po' una sera così, ci siamo conosciuti in un locale e niente. Ma tu, scusa, non eri ancora una superstar come sei adesso? No, 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 adesso sono proprio una star internazionale, quindi. All'epoca ero soltanto un cantautore che aveva fatto già delle cose. Adesso invece, insomma, una superstar. È il motivo per cui mi hai chiamato. Però dai, no, di la verità. Adesso che sei una superstar, ho detto, ecco, allora ci schiacchieriamo. È un sacco che dovevamo fare queste chiacchierate. No, 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 è più di un anno che ci proviamo, forse, no? Quindi, sì, sì, è vero, è vero. Finalmente siamo qua. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta in questo momento, peraltro, di ripresa, ecco. Qui, devo dire, in Inghilterra le cose... Adesso, sì, il problema è sempre l'immagine dei media e la realtà, no? Sono sempre due cose che faccio fatica a conciliare. Perché la realtà, se io esco qua e vado su lungomare, tutto tranquillo, alla grande, namo, vamo. Cioè, siamo proprio riccione a ferragosto. Ecco, questa è la situazione di Brighton, così. Però, se guardo i media, poi dico, ah, cacchio, la variante, quella indiana, la mayroba, i viaggi, la green list, l'umber list. Non si capisce niente, insomma. Quindi questo è un po' l'aspetto. Però è molto tranquilla, ecco, la situazione qua. Guarda, io sono da un po' di mesi a Roma. Perché ero venuto a trovare degli amici a ottobre. E ho detto, vabbè, faccio, perché vivo a Milano. E a Milano a ottobre c'erano già dieci gradi. Cioè, insomma, a questo punto ho detto, forse ho ancora bisogno di un po' di sole, un po' di... E a Roma a ottobre è un periodo splendido. E quindi sono venuto a Roma per trovare gli amici a ottobre per due settimane. Poi sono diventate quattro. Poi è ricominciato tutto, insomma, il caos che abbiamo vissuto. E sono rimasto fino adesso. E devo dire che anche qui si è respirata sempre un'area molto diversa, un po' più tranquilla. Poi ho vissuto anche la Roma quasi spettrale, vuota, senza turisti. E devo dire però anche che alcuni quartieri di Roma me li sono goduti anche come non ne avevo mai goduti prima, come non ne avevo mai potuto fare in passato. Perché ho vissuto a Roma un po' di anni e ho scoperto quindi anche alcune zone che non frequentavo poi così tanto. Però anche qui la sensazione è che stia... Poi noi esseri umani siamo così. Appena le cose un po' migliorano, vuoi, anche perché vogliamo cercare di dimenticare velocemente, torniamo, sembra tutto tornato a una normalità. Speriamo bene, dai. Sì, sì, si riparte velocemente. Il problema mio è che da quando hanno riaperto la possibilità di giocare a tennis, ho ripreso a giocare a tennis, sono un pessimo giocatore di tennis, ma ho questo bias cognitivo, ho una specie di Dunning Kruger dentro di me, dove la mia immagine è praticamente un misto tra Nadal e Diokovic. La realtà dei fatti è che ogni tanto faccio degli home run, cioè la prendo di rovescio e va proprio... Se giocassi a baseball sarebbe un'ottima cosa. E quindi è un po' questo, secondo me, anche nella musica. A volte tu parli con delle persone che pensano di essere a un livello totalmente diverso rispetto a quello cui sono, e così al contrario, magari quando noi ci siamo conosciuti tu non eri ancora, diciamo, a livello in cui sei oggi di notorietà, però avevi già, c'era già qualcosa, no? Però magari uno ancora non si vede lì, no? Perché ancora non ha avuto i risultati. Quindi vale in tutte le due direzioni, ecco. Per cui sono sempre incazzato, perché ultimamente non perdo sempre. Eppure, sai che pensavo l'altro giorno, perché anche io sono un appassionato di tennis, pensavo a... Ho degli amici che ora sono anche molto bravi, ovviamente tutto a livello dilettantistico. Però è cambiato tanto il modo di giocare a tennis. Cioè, io mi ricordo proprio che quando io facevo lezioni, no? Era il movimento, era tutto completamente diverso. E vedo invece ora molto più l'utilizzo del polso, che prima era una cosa che quasi non utilizzavi mai, cioè eri molto più rigido nel movimento. E ho pensato al ping pong, perché nel ping pong invece il polso si usa. E tu quindi dovresti essere avvantaggiato. Anch'io lo pensavo. La verità... Sai quel grande problema? Che tu a ping pong giochi frontale, ok? Quindi è un delitto se tu non giochi... Cioè non ti metteresti mai di lato per colpire la pallina. Cioè sei frontale, cioè è una torsione del busto, e i movimenti sono tutti molto brevi. Cioè il rovescio a ping pong parte da qua e arriva qua. Cioè non è che... Poi è chiaro sbracci in alcune situazioni, però è molto frontale. Cioè quando a tennis devi cominciare a dire giri, cose, siete fuori di testa, no? E quindi è una cosa stranissima. Addirittura il braccio arriva dietro. Oh, sì, sì. Qua su... Mamma mia. Queste sono cose che non hanno senso. Esatto, no? Tutto il coso che... Strano, devo dire, anche per me. E poi l'altra cosa è che guardi Roland Garros in sti giorni, e poi al solito quelli forti non fanno così. Cioè quello forte fa boom, non so, Nadal fa pif e parte un proiettile. Dici, ma come fa quello? Perché è Nadal? Io l'ho visto dal vivo proprio qui all'Internazionale di Roma. È impressionante. Sono quando... Sono impressionanti. Devo dire che... La realtà normalizza un po' tutto, no? E poi vedi anche dei movimenti stranissimi. Tipo Nadal è uno che fa dei movimenti prima di iniziare, è uno che si mette la bottiglietta esattamente in un modo, la giusta, tre volte, perché probabilmente ha delle... Sembrano delle manie quasi... Sessive, compulsive. Poi fa tutti dei movimenti. Prima di battere fa sempre questa cosa così, veramente particolare. Però anche poi quando li vedi giocare sembrano un po' più normali di come li vedi in tv, perché in tv hai proprio la sensazione delle cannonate che... Live te ne accorgi, però quasi pensi vabbè, ma forse due scambi li potrei fare. Così cose stai spiegando in campo. Mi ritornano un po'... Due scambi... Ma tu l'hai qualche mania compulsiva tipo prima di un concerto hai i tuoi rituali e le robe oppure no? Ma io sono un pazzo, tu non hai idea. Tu non hai idea. No, vabbè, sui concerti... Non più di tanto, devo dire, sul concerto. Però io sono uno di quelli che vive nel caos e poi quando comincio a mettere a posto divento proprio... Cioè metto le cose tutte, me le sistemo proprio con la faccia tutte rivolte da una parte, sistemo i bicchieri. Ho scritto anche un pezzo che si chiama Patologia in cui racconto un po' questa cosa. Cioè quando ci sono dei momenti nel pezzo dico se qualcosa non va metto in ordine e già torna l'armonia. Perché mi è capitato tante volte anche nei periodi in cui convivevo, quando litigavo io subito mi mettevo a sistemare. Infatti secondo me qualcuno mi ha anche sfruttato da quel punto di vista. Cioè mi faceva litigare apposta per sistemare. Secondo me era un po' così. Però nel live, musicalmente non più di tanto. ci sono dei riti che si fanno prima e quando poi i concerti vanno bene la volta dopo cerchi di farlo esattamente uguale. Allora ragazzi ci battiamo tutti sulla spalla così, ci tocchiamo tutti il sedere. Ma c'è il colore da non mettere o le cose da non fare? No. Alcuni sono un po' fissati su queste cose qua. io no. Poi se dobbiamo fare un teatro magari che ne so se non sbaglio il viola evitiamo. Se proprio dobbiamo perché dobbiamo sfidare non ci credo non ci credo ma perché dobbiamo sfidare tutti i vestiti di viola quel giorno. Evitiamo. Non ci credo però evitiamo. E adesso riprendi il tour. ho visto da quando cominci? Adesso partiamo il 15 luglio da Pistola. Adesso tra un mese sono contento sono contento perché io l'ho fatto anche lo scorso anno sono stato un po' tra i pochi a suonare lo scorso anno perché comunque la situazione era abbastanza complessa e avevamo molte incertezze insomma. però è stato talmente bello lo scorso anno talmente intenso era tutto forse anche ancora più amplificato dalla condizione in cui eravamo che insomma quando sono arrivato all'ultima data ho pensato io ne vorrei fare altre 100 ma se eri fermato mai anche perché si era creato un'armonia con la band con con tutto lo staff tutto il team che veramente umanamente ci ha arricchito tantissimo e quest'anno quindi non quando mi hanno chiesto ma vuoi suonare ho detto assolutamente sì ci tengo e ci tengo ad esserci poi in un momento come questo perché io poi l'ho vissuto proprio a pieno perché mi sono successe delle cose bellissime anche in un periodo così brutto per tutti noi umanamente però artisticamente mi sono successe delle cose molto belle e mi sembrava giusto esserci quindi partiamo il 15 luglio un po' per tutta l'estate pochi concerti ma in luoghi magici proprio non so il teatro antico di Taormina lo sferistero a Macerata a Roma faremo l'auditorium parco della musica insomma tutti i luoghi splendidi e poi tutto culminerà con la data dell'arena di Verona il 19 settembre io ho fatto l'arena durante il lockdown ho cantato fai rumore da solo nell'arena per le ovvie scorso anno e non vedo l'ora di tornarci con con la gente con la gente e vivere una serata indimenticabile ma in queste tappe già adesso il per dire il teatro l'arena può essere interamente pieno o deve essere pieno a metà o ci sono delle differenze sì ci sono delle differenze e credo cambierà a seconda della situazione delle regioni quindi potrà essere anche aumentata la capienza dalle regioni ovviamente sono tutte cose che poi cambiano giorno dopo giorno a seconda che succede per ora ci sono diciamo i vincoli a volte a mille spettatori ovviamente distanziati non so se arrivando già a partire dal 15 luglio ci sarà la mascherina obbligo di mascherina o meno lo scorso anno dovevi tenere la mascherina finché non ti sedevi al posto ovviamente tutti seduti o comunque se poi qualcuno si alza deve rimanere nella sua diciamo postazione e l'anno scorso poi arrivai al posto e toglieri la mascherina quest'anno non lo so ancora da capire per cui uno non si può alzare e andare a pogare durante un tuo concerto come al concerto era a Monster andato una volta no ma infatti io capisco alcuni anche noi abbiamo riarrangiato abbiamo tenuto in considerazione questa cosa perché se tu fai un concerto in cui pompi tantissimo quasi tu stia prendendo in giro la gente che magari vuole alzarsi la stia esticando e invece abbiamo tenuto comunque in considerazione questa cosa qui ma ci sono poi comunque momenti molto energici in cui magari la gente si alza anche e balla sul posto sta lì con il giusto distanziamento poi sarebbe sempre meglio rimanere tutti seduti però lo scorso anno ha dimostrato che i concerti sono un luogo sicuro perché tutti i concerti che ci sono stati credo ci sia stato in tutti i concerti un solo caso di una persona poi che ha avuto risultata positiva però se è un solo caso mi viene da pensare anche che probabilmente non si sia contagiato dal concerto quindi parliamo di ora non ricordo bene i numeri ma credo fossero mezzo milione di spettatori quindi stiamo parlando del nulla ma Ubisco poi anche con Chievo Prat con il Medusa l'altro giorno che sono partiti per gli Stati Uniti per fare il loro tour negli Stati Uniti insomma ci sono paesi dove si è già ripartiti in teoria qua in Inghilterra da giugno metà giugno dovrebbero riaprire tutto quanto che cosa è successo a Osta l'anno scorso iViolet dice concerto in provincia di Osta bellissimo Elisa subito su YouTube si a Osta stupendo lo rifarei domani allora io sono nato ad Osta però soltanto nato perché non ci ho mai vissuto erano in vacanza là vicino sono nato poco poco prima del previsto e e niente quindi sono nato ad Osta ma io non ci sono poi più tornato e ho sempre aspettato fosse la musica a portarmici e lo scorso anno si è creata questa incredibile occasione di aprire il tour ad Osta di farlo a San Bertolome era a 2000 metri d'altezza su un prato splendido tra le montagne con la gente seduta tipo picnic immagina quindi ognuno aveva la sua tovaglietta per terra tutti seduti con le postazioni e mille persone in questa sorta di grande campo di calcio però era non era un campo di calcio però quel verde lì mi ricordava un po' il prato e niente abbiamo suonato all'aperto è stato veramente magico perché era uno dei primissimi concerti e per tanti è stato il primo concerto dopo appunto il lockdown e il fatto che ci fosse quella connessione con la natura ha creato ancor più un momento di liberazione e di ricongiungimento con le anche proprio le radici con l'essenziale questa cosa qua probabilmente ha reso tutto ancora più ancora più bello e ancora più dimenticabile dimmi come ti prepari per un tour perché io nella mia paranoia totale avrei la voce dico ecco ma poi la voce se non mi viene non riesco non so Lorenzo forse una volta avevo chiacchierato con Giovannotti che saluto e lui era stato tipo non so due giorni in silenzio perché aveva perso la voce nel tour come ti organizzi come ti prepari ecco quello guarda è il grande trauma dei cantanti io invito tantissimo a volte i musicisti i chitarristi che devono solo stare attenti a non a non prendere colpi sulle mani però per il resto stai sereno sei tranquillo bevi la birra che vuoi il gin tonic che vuoi mangi quanto vuoi fai quello che cioè puoi fare quello che vuoi poi anche io suono però il problema principale è sempre appunto la voce ed è un trauma perché tu pensi che tanta gente sta pagando un biglietto per venire a vedere te se tu non sei in forma entri in una paranoia immagino mi preparo adesso comincerò a magari allenarmi anche un po' di più proprio fisicamente perché il fiato poi è importante sul sul palco e ultimamente poi mi piace tanto anche essere molto attivo sul palco ballo salto da una parte all'altra quindi se non sei allenato ovviamente potresti avere dei problemi e poi comincio ora comincio a allenare anche di più proprio la voce e più mi avvicinerò alla preparazione proprio alle prove che ci saranno non cominceremo tra qualche settimana prove all'estimento proprio di tutto il tour a quel punto comincerò anche a mangiare un po' diversamente a bere un po' meno vino o gin tonic che a me piace tantissimo perché ovviamente non ti fanno bene quelle cose è inutile nascondersi meglio mangi più mangi sano leggero e attento meglio è poi è anche vero che io spesso mi sono imparanoiato troppo su queste cose cioè ho avuto quei momenti proprio di riso in bianco ho fatto dei concerti a volte senza quasi neanche mangiare e quella cosa poi la paghi sul palco la senti l'energia che va via e dici ok vediamo se riesco a svenire su questo o sul pezzo dopo quella cosa lì è è un po' pericolo poi io muovo un sacco io muovo un sacco la testa quando 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 canto e quindi a volte c'hai proprio degli sbarioni se non hai l'energia giusta non è facile insomma molti artisti hai nominato prima Lorenzo Lorenzo è un vero e proprio atleta lo vedi sul palco è impressionante quello che lui riesce a fare sul palco e per tante serate di seguito esatto perché quello è il problema un conto è se tu hai una performance dici vabbè oppure non so basco fa tre serate a San Siro e finisce lì ok è uno sforzo lo misuri per quello però fare 50 tappe cioè come fai un po' io l'anno scorso te lo chiedevo perché l'anno scorso pre-pandemia avevo fatto un tour in Italia cioè era un libro che era uscito avevo fatto un tour così e andavo in giro nel teatro avevo fatto tipo 20 tappe ok sono arrivato alla ventesima che mi hanno dato il microfono e la prima cosa che ho detto è stata allora io probabilmente adesso svengo non sto più in piedi mi girò la testa ero ho detto qua svengo vado proprio giù quindi prendetemi e poi svegliatemi e riparto a parlare però sappiate che svengo ecco e quindi ho pensato non mi preoccupate insomma come può fare perché poi sai io parlo non è che canto parlo quindi è facile ma è cantare poi muoverti io devo dire poi che canto delle canzoni anche che vocalmente sono scritte per uno più bravo di me quindi cioè io le scrivo per uno più bravo e poi dico porca miseria adesso devo pure cantare mannaggia e quindi per me è problematico se cioè non avere voce poi l'esperienza ti porta allora la cosa che ho notato è che in realtà nello scorso anno io ho fatto per esempio tre concerti di seguito a Roma erano tre date e penso che la terza sia stata una delle cioè era quella in cui mi sentivo meglio ero molto spaventato in realtà perché sapevo appunto di dover cantare ho cantato la prima ed ero con la voce molto tranquilla la seconda ero già tipo oddio già ho cantato ieri poi devo cantare domani e quella è una cosa che un po' ti frega dal punto di vista no poi è anche emotivo però poi mi rendo conto che più vado avanti e più è come se le cose arrivassero automaticamente perché è come se si creasse una memoria muscolare è chiaro che nel parlare è diverso perché ogni sera dici cose diverse le dici con un'intenzione diversa a seconda del luogo in cui il canto ti permette di essere un po' più di avere delle pressioni e quindi questa cosa qui crea una quasi una memoria muscolare e improvvisamente ti rendi conto che delle cose che prima sembravano difficilissime molto faticose il tuo corpo riesce a farle quasi automaticamente e quindi hai molto più molta più facilità nel farle quindi più si va avanti meglio è secondo me poi chiaro è che come appunto un atleta di qualsiasi sport dopo 30-40 partite sei devastato sei provato poi tu magari vai avanti con le tue energie però il corpo comincia a risentirne e quello è un momento in cui dici cantate voi cantatela voi questa così microfono quella è una cosa classica importante c'è una marea di complimenti in chat ne te ne dico qualcuno perché merita raffaella menghisi su facebook dice al cinzella sei stato super non so cosa sia il cinzella è un festival a taranto che fanno a taranto è stata la data dello scorso anno ok al cinzella rox barbera dice antonio che balla mi ricordo quella serata taormina cuoricini non investigo penso intenda il live al teatro antico che abbiamo fatto anche lo scorso anno non un vostro balletto privato insomma credo c'era una foto però è stato strano lo scorso anno lì al teatro antico perché non c'era la pratea cioè non c'era la gente era lontanissima e quindi io a un certo punto ho detto vabbè scendo dal palco quindi sono sceso dal palco e sono stato lì solo in quella pratea lì con la gente solo sopra e cantavo le persone che erano lì in alto e ho ballato tantissimo quindi mi muovevo lì così probabilmente intende questo l'altro film che arriva ovviamente è la colonna sonora e la canzone del film Il Divincodino che ho visto l'altra sera penso un po' mi sono messo lì nel buio della mia cameretta mi sono guardato il film premesso che io non seguo il calcio ok però ovviamente conoscevo Baggio insomma me lo ricordo Baggio è stato un fenomeno pazzesco è premesso che l'attore l'ho trovato bravissimo sia l'attore che fa Baggio sia il padre dell'attore che non so chi siano però li ho trovati strepitosi come come recitazione però concordo con quello che dico nei commenti che la tua la tua canzone è veramente emozionante è proprio quella canzone da brivido che ti prende ecco e quindi insomma devo dire che hai avuto un effetto 100% in chat c'è questa reazione al film è stato difficilissimo perché innanzitutto mi hanno chiesto di scrivere una canzone ed è già una cosa per me strana perché di solito io scrivo le canzoni appunto quando ovviamente ti chiedono una colonna sonora o comunque di partecipare a una colonna sonora con una canzone è come dire non un'imposizione ma una richiesta che ti arriva dall'esterno la cosa che mi ha aiutato è appunto che la persona di cui dovevo parlare la conosco abbastanza bene o meglio ha fatto proprio parte della mia vita come fa parte del credo del DNA degli italiani però pensare che le parole che questa canzone l'avrebbe poi ascoltata Baggio mi metteva un po' di ansietta devo dire cioè perché poi tu parli della vita di un'altra persona e magari quella ascolta e dice ma chi? io non so a quel punto quindi ho capito che per quanto io poi conosca bene la carriera di Baggio mi sia appassionato è veramente un mio idolo e l'ho seguito da quando ero ragazzino ho capito che dovevo parlare delle mie emozioni cioè delle sensazioni che mi ha fatto provare delle immagini anche della mia proiezione del del mio anche film che ho vissuto grazie a Baggio e alla alla sua carriera e anche devo parlare dei regali che mi ha fatto perché da buon tifoso l'ho amato tanto ero molto appassionato di calcio e devo dire che poi ultimamente non lo sono più così tanto perché credo sia cambiato tanto il calcio e credo manchino forse anche personalità come la sua e credo lui sia stato un grande poeta del calcio uno dei campioni che gli italiani amano di più forse anche perché da sempre ha avuto a che fare con delle difficoltà enormi e tu quelle difficoltà quel sacrificio e anche quella fragilità la percepivi quando vedevi giocare Baggio sapevi che aveva avuto un infortunio molto grave all'inizio proprio della sua carriera un infortunio che avrebbe fermato chiunque ma non lui quindi tutta quella determinazione la forza proprio del campione era è stata credo di ispirazione per tanti e anche le cadute anche gli errori anche quel calcio di rigore di cui si parla sempre credo siano stati punti di congiunzione con tutti noi tutti noi abbiamo sbagliato quel calcio di rigore nella vita cioè tutti noi siamo caduti e poi abbiamo cercato di rialzarci con la determinazione con la voglia di migliorarsi di crescere quindi credo sia stata una grande fortuna avere poi una persona così anche illuminata e che stava facendo un processo di crescita interiore e umana in un posto così esposto perché alla fine il calciatore è mediaticamente una delle forse delle persone più ascoltate o comunque più seguite e avere un essere umano così speciale su un piedistallo come quello che è quello del calciatore più forte del mondo perché Baggio è stato durante quegli anni il calciatore più forte del mondo ed è uno dei più grandi di sempre è stata forse una fortuna per tutti noi per appassionarci e per provare delle emozioni ma anche secondo me per crescere a me lo dico nella canzone un po' ha insegnato la vita l'esperienza di Baggio quindi è stato un grande privilegio poter scrivere questa canzone è stata una grandissima esatto è stata una grande emozione incontrarlo perché poi viene il videoclip del brano mi ha fatto questo altro regalo e ovviamente io poi sono andato proprio a casa sua e quindi puoi immaginare proprio l'emozione pazzesca che provavo cercavo di sembrare tutto tranquillo però sono arrivato lui è non so se ti è mai capitato di incontrarlo no ma è una persona che immediatamente di cui senti immediatamente l'energia e vedi negli occhi sia il tumulto ma anche tutto tutta quella quella pace che hai riuscito a a creare con delle scelte anche dure no di vita ma anche con un ricongiungimento proprio con la natura con con le proprie radici e ti mette subito a tuo agio quindi hai proprio la sensazione di star lì con un parente con una persona che conosci da sempre e lui ti fa sentire immediatamente così io subito gli ho detto guarda io non sai che ansia avevo per questa canzone mi hanno detto che ti è piaciuta e lui mi ha detto no vabbè hai scritto un capolavoro ho pianto non sai quanto ho pianto nell'ascoltarla quindi quando Baggio ti dice così alla fine a posto per me va a posto così e poi vabbè poi ho avuto questo regalino non male oh questa nei match di calcetto contro gli amici la metti su e già quella incute timore questa proprio la metta te no no io giro così la uso e vado in giro così adesso scusa hai una sì no questa maglia di Baggio ciao questa maglietta non so se conosci se sai questo passava di lì grande no ma lui emoziona e tu emozioni infatti anche in chat la parola emozione viene fuori spesso la tua capacità di suscitare emozioni da dove parti perché non è facile per niente a volte hai sia film o canzoni che magari sono perfette sono bellissimi però emozione zero proprio non ti lascia niente e invece se uno ascolta un tuo pezzo è un mix un po' la voce un po' le parole cioè hai quella quella frequenza dove arrivi dritto bam e subito sei in gioco con l'emozione no mi domando se che lavoro fai dietro o se semplicemente una cosa che ti è sempre venuta spontanea così come fai a lavorare è un lavoro è un lavoro cioè ho fatto un lavoro su questa cosa qui ma più che altro è credo ognuno di noi abbia delle barriere con il mondo esterno per proteggersi per proteggere la propria intimità e perché siamo alla fine esseri fragili facilmente influenzabili o comunque è facile farsi del male quando si entra quando si si permette a qualcun altro di entrare nella nostra sfera proprio intima e devo dire che ho fatto un lavoro proprio nel cercare di abbattere queste barriere che avevo anche io e la musica mi ha aiutato tanto in questo l'ho utilizzata proprio come come mezzo per liberarmi da queste costrizioni da queste paure che avevo e ho avuto la sensazione quelle volte in cui ci sono riuscito di sentirmi meglio quindi pian piano questa cosa qui mi ha portato a spingere sempre di più in quella direzione per una questione personale e poi perché mi sono reso conto anche e lo dico con molta sincerità è che nel momento in cui arrivi a un punto profondo di te stesso che sei convinto sia il punto più distante da tutti gli altri esseri umani che ti sono intorno in realtà se riesci a parlare di quella tua intimità di quella di quel punto lì in quel momento crei un ponte con gli altri è in realtà ciò che ti accomuna agli altri ciò che ti che poi ti fa ricevere poi quei messaggi in cui ti dicono come hai fatto a parlare di me che era ciò che io amavo un po' dei cantautori che ascoltavo quando ero nella mia stanzetta da ragazzino e ascoltavo queste canzoni e dicevo ma questo come fa a sapere cosa ascoltavi tu da ragazzino ma ho ascoltato per un periodo ho ascoltato tanto Brit Rock Brit Pop Brit Rock ma tutta la scena degli anni 90 quindi proprio da non lo so dai Blair Radiohead Verve tutto tutto quel movimento lì poi sono andato indietro e ho cominciato ad ascoltare sempre Brit Pop Rock quindi Beatles cioè i padri di quegli artisti lì e poi qualche anno dopo ho riscoperto le mie radici italiane quindi ho cominciato ad ascoltare grandi cantautori partendo da quelli degli anni 60 da il mio e dico mio da pugliese Modugno che per molti è considerato il primo cantautore a poi Lausi Tenco Battisti insomma tutti quelli artisti che hanno reso grande la musica italiana in quegli anni lì la cosa che De Andrè De Andrè proprio ci ho sbattuto la testa tanto perché quando ascolti De Andrè poi pensi vabbè il massimo è già stato fatto io posso posso provare a stare ad avvicinarmi il più possibile quello può essere l'obiettivo ma più di più di quello non si può fare quindi ho ascoltato tanta poi musica italiana e la cosa che mi piaceva poi per esempio della musica italiana degli anni 60 oltre a questo sound che aveva perché era suonata da grandi musicisti arrangiata da grandi da grandissimi nella musica Ennio Morricone faceva gli arrangiamenti dei pezzi pop di quegli anni c'erano proprio dei team di lavoro pazzeschi c'era un artigianato cioè si scriveva il pezzo e si andava a Mina andava in studio c'era l'orchestra che suonava lei cantava e qualche giorno dopo era già disponibile nei negozi e in radio insomma si lavorava in questo modo qui e questo però creava dava la possibilità a tanti artigiani io li chiamo così di lavorare insieme quindi di creare dei capolavori assoluti che ho preso tanto come riferimento anche perché avevano una semplicità nella poetica che non significava assolutamente superficialità ma anzi riuscivano ad andare in profondità parlando di sentimenti anche molto complessi l'amore per esempio che è uno dei sentimenti più complessi ma in maniera semplice cioè arrivava a tutti quella quell'immagine quella poesia quindi ho avuto sempre un po' quel riferimento lì quindi ho ascoltato tanto loro ma poi anche tanti artisti internazionali italiani prima hai nominato Giovanotti Giovanotti ho avuto proprio un periodo in cui l'ho ascoltato tantissimo avevo sempre questo Walkman abbiamo detto una parola che alcuni diranno Walkman ieri quando mio figlio di 12 anni ho detto la parola floppy disk ho detto che cos'è floppy disk floppy disk come il floppy disk cioè mi sono proprio sentito ricordi quando avevi i pacchetti i pacchetti con l'elastico metti questo finisce poi metti quell'altro esatto esatto e quando tu hai iniziato ad ascoltare tutta questa musica poi il passaggio successivo qual è stato hai studiato hai cominciato a scrivere tu istantaneamente improvvisamente che percorso hai fatto per cominciare a esplorare questo lato perché magari dicevi no io faccio il giocatore di tennis da grande no cioè non era anche il calciatore non mi sarebbe dispiaciuto e avevo secondo me anche un buon sinistro poi non è stato educato bene quindi ho dovuto no ho iniziato scrivendo in inglese perché la si inizia e secondo me è bene iniziare sempre un po' per gioco e anche un po' per imitazione dei grandi miti no della musica io mi ricordo ma senza nessun tipo di preparazione cioè così di getto di tuo allora nella scrittura sì senza alcun tipo di preparazione infatti si vedevano i risultati però no ho studiato ho fatto le scuole medie vabbè alle elementari prima la musica ora spero si stia pian piano tornando anche nelle scuole però prima si studiava musica proprio come materia quindi io ho fatto le elementari in cui suonavo la diamonica la melodica quella in cui soffi dentro hai questa tastierina che sembra un mini piano in cui però in cui però devi soffiare dentro era quella che poi a fine lezione facevi così e sputavi su tutti i tuoi amici compagni faceva quella guerra di sputi e quindi ho studiato e mi piaceva tanto anche sentirmi parte di una di un gruppo perché lo facevi sempre con gli altri mi ricordo un saggio in cui suonammo come mai degli 883 comunque quando riuscivi a farla tutta senza sbagliare sentivi una cosa importante poi alle scuole medie ho suonato il violino perché ho fatto anche lì una scuola musicale una scuola a indirizzo musicale in cui venivano dal conservatorio a farti un esame e poi ti consigliavano lo strumento e ricordo che i miei avrebbero voluto il pianoforte però io non lo dico per vantarmi però arrivai primo in tutta la scuola ricordo mentre ho la presa e mi disse chi è Diodato io mi alzai e disse che ho combinato forse forse ora mi diranno hai copiato durante invece lei mi disse bravo mi ricordo anche con una rigidità cioè era un complimento però era tipo bravo sei arrivato primo ti vogliono parlare i maestri appunto primo in violino no ero arrivato primo in questo esame che loro facevano musicale ah ok ti facevano fare delle cose semplici tipo ti facevano ascoltare due note ti dicevano qual è la più alta poi ti facevano fare un ritmo facevano riproducevano un ritmo su una superficie e tu lo dovevi rifare poi lo facevano sempre più complesso e tu dovevi rifare quelle cose ti facevano fare dei giochi anche con le mani e delle cose così e e quindi mi dissero consigliavano incontrarono i miei genitori e gli dissero vi consigliamo di farli fare violino perché è lo strumento più importante dell'orchestra ve lo diciamo è anche il più difficile e allora i miei un po' così con un po' di rammarico anche perché loro volevano il pianoforte e forse mi sarebbe servito tanto anche se poi ho riconsiderato alcuni aspetti del violino mi comprarono questo violino e lì inizierono due anni di tortura cinese perché c'era c'era veramente questa non era uno strumento era un pianto costante perché il violino è veramente tremendo all'inizio questa cosa per chi lo suona e per chi è intorno alla stanza per chi ti sente per due ore provare tutti i giorni così quindi quando c'erano i saggi allora c'era la premessa del nostro professore di musica che diceva adesso arrivano i violinisti perché il pianista arrivava e comunque qualcosa la faceva già dopo un anno riusciva a suonare delle cose anche belle il chitarrista idem magari poteva sbagliare una cosina così però flauto e tutti gli altri ok arrivavamo noi c'era la premessa dovete capire che lo strumento del violino è molto difficile lo strumento più difficile probabilmente di tutti quindi cercate di capire che insomma c'è un grande sforzo dietro questa esibizione e noi partivamo e c'erano tutti i genitori così con queste facce con questo sorriso che cercavano di dirti bravo motivo per cui dopo due anni quando sono andato da mia madre un giorno gli ho detto mamma sinceramente non lo so se voglio continuare a suonare il violino e l'ho preso l'ho chiuso e ho detto mamma non ti preoccupare l'ho messo in un punto alto affinché non potessi più raggiungerlo e non ho più suonato il violino no ovviamente non è colpa di una madre però non mi hanno costretto a studiare e non ho più suonato devo dire che forse però e scusami non avevi mai cantato cioè suonavi e basta o provavi anche a cantare qualcosa cantavo in macchina con i miei però devo dire ci ho pensato un po' di tempo fa che il violino probabilmente è uno strumento che in realtà è una voce se ci pensi sembra tant'è che oggi ho un modo di cantare che in qualche modo utilizzo spesso la mia voce come se fosse un violino cioè come se fosse uno strumento tant'è che arrangio tantissimo i miei brani con delle linee melodiche che creo a volte sembrano degli archi ma è la mia voce che fa tutti questi anche con dei falsetti faccio tutte queste cose un po' teremin quasi non so se conosci il teremin che è questo strumento pazzetto che si suona con la mano comunque utilizzo la mia voce in quel mondo probabilmente anche proprio grazie allo studio del violino e quindi mi è servito poi tutto serve però quando hai finito il violino a quel punto come dire la tua carriera di violinista was over io ho mollato la musica mi piaceva però avevo capito che era faticosa quindi ho detto no io un pigrone come al solito ho detto no poi un giorno ho visto The Doors di Oliver Stone il film con Val Kilmer con Val Kilmer e ho visto questo poeta maledetto che viveva questa vita in questo modo e ovviamente ti affascina soprattutto se lo vedi in un determinato periodo della tua vita e quindi un po' per imitazione con i miei amici abbiamo cominciato a suonare io mi ricordo provavo a fare non cantavo ancora provavo a fare il Ray Manzarek che era il tastierista il mondista l'organista dei Doors suonacchiavo questa tastiera male ovviamente perché non avevo mai studiato e poi all'interno di questo trio che avevamo creato con i miei vicini di casa un batterista che aveva questa batteria in cantina una cantina che si allagava spesso quindi ogni tanto mentre stavamo suonando sentivamo cambiare il suono della cassa diciamo c'è qualcosa c'era l'acqua secondo me io ci ho ripensato era la madre che aveva un rubinetto da qualche parte quando non ne poteva più lo attivava e in questo modo ci faceva andare via però lì avevo un po' per imitazione avevo cominciato a suonare così per divertirci ed è giusto che sia così secondo me e poi pian piano prova a cantare tu prova a cantare tu ho cominciato a cantare io ma non ho mai pensato di avere una bella voce cioè l'ho capito cioè ho capito che gli altri percepivano una bella voce o comunque una voce interessante a scuola le scuole superiori quando creata un'altra band facevamo alcune esibizioni durante le assemblee d'istituto quelle cose lì e vedevo che mi guardavo anche le ragazze che magari di solito per cui ero invisibile improvvisamente vedevo che si giravano mi guardavo in altro modo allora io ho cominciato a pensare però potrebbe essere utile questa cosa è uno strumento che ha la sua utilità pratica la cosa del canto quindi e pian piano ho cominciato così mi sono trasferito a Roma questo al tempi del liceo sì scuole superiori l'ho cominciato a fare un po' più seriamente lì ho cominciato a scrivere in inglese in un inglese che poi quando ho fatto ascoltare a madrelingua mi ha detto bello in che lingua stai cantando quindi ho capito forse non è perfetto inglese quello in cui sto cantando era ovviamente la traduzione di pensieri italiani messi in inglese con una pronuncia un po' mia e allora ho capito pian piano soprattutto poi quando mi sono trasferito per studiare a Roma ho capito che dovevo provare a sfidare l'italiano perché nella musica lo dico molto chiaramente è molto più facile a scrivere in inglese perché è una lingua molto musicale proprio ha la possibilità di si incastra metricamente proprio con molta più facilità l'italiano è un po' più rigido per quanto sia la lingua dalla poesia no però cantato poi quando sei italiano e cominci a tradurre le cose che avevi scritto in inglese cioè se tu dici le nuvole nel cielo in inglese clouds in the sky cioè hai la sensazione di aver detto una figata le nuvole nel cielo in italiano sono le nuvole nel cielo quindi uno dice beh quindi e allora lì è iniziata la sfida è stata una sfida tosta che continua c'è anche secondo me un problema proprio culturale se tu se tu parli a un pubblico anglofono la reazione in generale è una reazione qua in UK molto polite no? oh wow that's great o nei Stati Uniti wow you're fantastic cioè è immediatamente una reazione di entusiasmo noi italiani invece la reazione che cazzo sta di questo no? cioè quindi devi proprio conquistarlo dieci volte cioè le parole devono veramente conquistarti ecco non è che bastano due paroline messe lì e considerando anche tutta la tradizione che dicevi tu cioè che siamo abituati bene ecco come il cibo cioè devi arrivare e dire oh questo proprio deve e scusami quindi da lì qual è stato il passaggio successivo? il passaggio è stato una una marea di live perché io ho cercato c'era questo giornale che si chiamava Porta Portese non so se esiste ancora ma in cui si mettevano gli annunci e mettevi questi annunci e lo compravano tutti gli studenti per cercare le stanze in affitto però si mettevano anche annunci musicali e io così ho trovato questa band con cui ho creato questa prima band con cui ho iniziato a fare le mie cose mi ricordo si chiamavano in Florida questo nome che facevo il cameriere in un pub e ricordo se dobbiamo trovare un nome dobbiamo trovare un nome abbiamo preso questa questo menù abbiamo aperto questo menù abbiamo guardato il nome dei cocktail c'era un cocktail che si chiamava Florida e abbiamo detto va bene chiamiamolo così e abbiamo chiamato questa band un nome splendido devo dire e niente abbiamo cominciato poi c'era anche Flo Ride no chi cacchio era l'altro cantante vabbè c'era poi in realtà c'è un artista vi ricordo che poi ci accorgemmo che c'era un artista che si chiamavano così o una band ricordo adesso e c'è ancora sì sì Flo yeah American rapper Flo Florida è un rapper americano ok noi facciamo un po' una cosa diversa il rap però vabbè primi esperimenti prime canzoni e facevi live facciamo concorsi live ovviamente tutti i locali i piccoli club in quel periodo purtroppo volevano soprattutto cover band o comunque ti dicevano sì belle le tue canzoni però la gente viene qua per mangiare per bere una cosa deve sentire stai canzoni non conosce un po' sannoia quindi io con il tastierista di quella band che aveva già questa band dance anni 70 che faceva principalmente dance anni 70 il cui cantante cominciò a fare il doppiatore quindi non poteva sforzare la voce nei concerti allora lui mi disse vieni a sostituire il cantante io ho cominciato poi a fare tantissimi live matrimoni ho fatto qualsiasi cosa con loro e a quel punto sono cresciuto tanto perché più suoni dal vivo più suoni poi in situazioni estreme io sono arrivato a fare dei concerti a volte in cui arrivavi nel posto e non c'era non c'era l'impianto ah non so se mi spieghi e loro ti dicevo perché non hai portato te l'impianto io devo portare l'impianto ma scusi c'è il locale la cosa devo portare io l'impianto ma no noi non abbiamo niente non potevi portare una cassa una cosa ma no cioè quanta gente mi hai portato c'erano tutti quei discorsi incredibili era così suonava soprattutto chi portava gente e niente quindi quella roba lì è stata la scuola perché ho suonato in qualsiasi situazione non sentendomi per niente cioè quando canti oggi ho l'inier no queste cuffie che metti sul palco però di solito suoni con dei monitor con delle casse rivolte verso di te in modo che ascolti ti senti ti puoi intonare puoi sentire cosa stanno suonando gli altri insieme a te e invece ho suonato in tantissime situazioni in condizioni estreme però è stato è stata una grande scuola a un certo punto ho ho deciso ho fatto centinaia centinaia di concerti a un certo punto però ho deciso di non suonare più le cover cioè ho capito che se volevo crescere davvero dovevo prendermi anche la responsabilità di portare avanti le mie cose con convinzione andare a suonare solo in posti che in qualche modo cercano di alimentare il tutto l'underground musicale tutte tutte quelle realtà che emergenti no? e ho trovato dei posti per cui scusa hai detto addio ai matrimoni ho detto addio ai matrimoni l'ultimo matrimonio è finito con una rissa matrimonio sì è stato incredibile perché non ci credo davvero rissa tra la sua sposa e la sposa no no rissa con noi proprio uno degli invitati che si era fissato con noi perché non avevamo un microfono senza fili una storia assurda e noi eravamo molto felici quella sera prima cosa perché eravamo stati trattati benissimo perché per una delle poche volte poche occasioni in cui avevamo cenato con gli invitati avevamo un nostro tavolo di solito invece si mangia in cucina o comunque non stai relegato esatto invece lì avevamo il nostro tavolo poi io avevo fatto proprio questo annuncio agli altri gli ho detto ragazzi questo è il mio ultimo concerto con voi e vi voglio bene lo sapete però mi mortifica tanto vivere la musica in questo modo la voglio vivere diversamente voglio fare provare a fare un investimento su di me so che sarà doloroso faticoso però ci voglio provare e loro che hanno sempre creduto in me sin dall'inizio e mi hanno detto vai siamo con te ti vogliamo bene e capiamo tutto quindi era una serata emozionante importante l'ultimo concerto insieme abbiamo suonato benissimo niente a un certo punto è arrivato questo invitato e e mi dice mentre io sto cantando e mi dice mi dai il microfono senza fili già un filo ubriachello e io lo guardo là ci portavamo tutto noi tutto l'impianto tutto noi oltretutto il pomeriggio avevamo montato tutto giù in piscina cioè immagina era ristorante su una collina giù dalla collina c'era una piscina noi abbiamo montato tutto giù lì sotto il sole estivo quindi a un certo punto ci hanno detto no non dovevate montare lì dovevate montare vicino al ristorante quindi smonta tutto rimonta su ti sciacqui come puoi una cosa ti vesti bene ceni per fortuna ti rilassi lì bevi un po' così ricordo c'erano anche i sigari con il room e tutti tutta la band aveva questo sigaro in bocca mentre suonava però eravamo anche un po' stanchi però detto questo arriva questa persona e mi chiede e io gli dico mentre canto we are family non guarda non c'era una cosa una cosa così giuro e lui a un certo punto finisce il pezzo e io gli dico guarda non abbiamo il microfono senza film ah vabbè dammi questo gli do il microfono e lui comincia a camminare e a un certo punto comincia a tirarsi il mixer perché il cavo era finito e allora io gli dico scusa ti devi fermare perché non è un microfono senza fili e lui mi ricordo che iniziò questo discorso che voleva fare gli sposi scusate siamo un po' all'età della pietra vabbè però volevo fare gli auguri fare gli auguri ci ridà il microfono grazie grazie noi continuiamo a suonare eravamo in armonia non ci abbiamo fatto caso più di tanto e niente abbiamo finito di suonare e ovviamente eravamo già molto stanchi sposa felicissima ci siamo abbracciati è stato un momento bello tant'è che ci ha invitati ad andare in piscina giù venite a ballare giù state con noi vivetevi la serata con noi devo dire scusa fino a qua non vedo come possa nascere un'area è tornato lui è tornato e mentre noi stavamo smontando noi abbiamo detto no guarda smontiamo e torniamo a Roma perché era fuori Roma nella provincia e torniamo a Roma siamo molto stanchi però grazie mille siamo stati benissimo ci avete trattati veramente da quasi da essere umani da essere umani esatto e lui è tornato e ha cominciato a farci tante domande allora a un certo punto il chitarrista giuro è andata proprio il chitarrista mentre stava parlando con lui gli dice guarda scusami se mentre parliamo io smonto perché sai oggi è stata una giornata anche dura abbiamo montato giù poi ci hanno detto che era sbagliato e quindi sotto al sole abbiamo smontato tutto l'impianto le luci abbiamo rimontato su quindi siamo un po' stanchi ora torniamo a Roma e lui gli dice no a me questi discorsi non me li devi fa così improvvisamente quindi io resto un attimo sento sai quando stai ascoltando un discorso tutto fila e poi improvvisamente senti una frase che non dice che senso perché e comincia a farci una marea di domande tipo ma quanto avete suonato ma chi va chiamato qua ma come ma come siete arrivati qua io lavoro in un villaggio montiamo palchi cose e lui il chitarrista dice ma guarda non volevo non volevo essere offensivo volevo solo dirti scusa se mentre parliamo smonto smonto ma quanto avete suonato ma poi gli fai il chitarrista ma scusa nel villaggio lì monti tu i palchi no c'ho gli operai che lo fanno la cosa vedi noi ti sto dicendo semplicemente che l'abbiamo fatto noi vabbè niente inizia andare di matto questo qui e io a un certo punto sinceramente mi sono avvicinato e gli ho detto ma che cazzo vuoi non ce l'ho fatta cioè gli ho detto ma cioè ero stanco e tutto in più la storia del microfono prima e lui è partito mi ha aggredito subito così si è creata la rissa ricordo il batterista sulla batteria che gridava la prima cosa che spaccano è la batteria la prima cosa che spaccano è la batteria quindi niente alla fine lui ha cominciato a prendere a pugni il bassista noi lo abbiamo tirato indietro per aiutare il bassista per allontanarlo e il bassista quando si è girato gli ha dato un pugno e gli è esploso il naso cioè io ho visto il naso e ricordo c'era uno con la telecamera ubriachissimo che diceva adesso sto riprendendo tutto guarda prendeva questo sangue per terra insomma un matrimonio che era splendido e in cui noi eravamo stati benissimo ed era l'ultimo matrimonio che avrei dovuto fare dopo innumerevoli è finita così per fortuna poi hanno diviso tutti quanti così però ricordo che la sposa ovviamente era devastata da questa situazione era passata da un momento di felicità a questa cosa però noi non eravamo cioè eravamo veramente non avevamo nessuna colpa però purtroppo l'alcol poi direa ma hai fatto morire con questo aneddoto dovevate fare come avevo visto questo video una volta Mick Jagger e Keith Richards a un mega concerto e a un certo punto entra un fan sul palco e corre verso Keith Richards ritoglie la chitarra inizia a schitarrarlo e poi riprende a suonare come se niente fosse certo ma ce ne sono tantissimi a proposito di atleti che si preparano capito in modo ligio per il tour devi seguire uno sul palco può succedere anche quello però devo dire che in realtà noi eravamo stati veramente cioè abbiamo cercato fino alla fine di dire poi io a un certo punto ho detto vabbè ma questo sta fuori la cosa incredibile poi è che tu pensa a tutti i concerti che hai fatto all'inizio per due lire dove magari ti tratta male guadagni due lire magari neanche ti pagano perché poi ti pagano tutti i casini che ci sono sempre quella volta devo dire a sottolineare ancora di più quanto gli sposi fossero veramente eccezionali e ci hanno anche pagato perché a quel punto noi abbiamo detto ecco qua ci siamo fatti un culo così e i soldi stasera niente e invece ci hanno anche pagato quindi scusa mi ti ho interrotto però ci tenevo a sottolineare questo spesso è così e se ti sposti adesso pensa a tutte le richieste che hai adesso invece prima dovevi essere lì pensa adesso se dicessi no io non faccio cover faccio solo la mia musica no fai quello che vuoi invece prima no no vai canta questo qua che assurdo è stata è stata una grande scuola di vita aspetta che è andato ci abbiamo già parlato un'ora tu devi scappare tra quanto devi andare quando si spegne il telefono perché mi ha appena detto che ho il 20% di batteria quindi andiamo fino a quando mi vedi sparire no no andiamo vai tranquillo volevo anche annunciarvi in anteprima che è sparito volevo dire una cosa qui in esclusiva solo per per te mondiale se sebra no stavo dicendo come hai fatto come dire da quell'esperienza lì a dire ok adesso faccio la mia musica però non era scontato che potesse funzionare e aggiungo non era scontato che magari potesse essere un lavoro magari poteva essere un hobby fantastico facevi però e moriva lì è stato un salto nel vuoto senza il paracadute pure quindi ho dovuto imparare a volare un po' però le definisco spesso in realtà montagne russe perché questo lavoro e questa vita che poi cominci a fare e che è molto legata con la tua emotività ed è ogni volta un mettersi alla prova e soprattutto esporsi anche a un giudizio esterno che ti arriva a volte anche semplicemente con attenzione o non attenzione l'ho deciso io questa cosa l'ho voluta io e a un certo punto ho capito che non dovevo avere un piano B perché il piano B mi teneva sempre un po' coperto e avevo questa sensazione di dire vabbè dai se non riesco in questa cosa faccio quest'altra cosa qui invece a un certo punto ho detto io devo fare questo e non ho pensato al successo io ho pensato a come far diventare quella cosa la mia vita cioè mi sono chiesto tu vuoi fare scrivere canzoni vuoi cantare vuoi esprimere te stesso in questo modo indipendentemente dai risultati allora lo devi fare lo devi fare sempre lo devi fare suonando nei locali suonando finirai a suonare per strada va bene finirai a suonare per 50 persone in piccoli teatrini per tutta la vita ti fa stare bene quella cosa lì quei 100 euro che riesci a guadagnare quella sera in cui lo fai ti rendono felice sì come ti senti dentro stai bene sì allora a quel punto ho capito che quella era la mia strada semplicemente mi faceva stare bene e il tuo come l'hai eseguito questo piano perché questo già mi sembra fondamentale bruci la barca e a quel punto devi andare a nuoto e finire la storia insomma o nuoti o affondi ecco beh l'ho l'ho eseguito con una follia a un certo punto nel senso che io ho fatto tanti lavori no l'ho detto prima il cameriere va qualsiasi cosa mi mettevo a fare inizialmente all'inizio ho fatto la comparsa al cinema ho fatto tante cose soprattutto il cameriere poi per tanto tempo poi a un certo punto ho capito e mi sono detto ok era un periodo in cui veramente non avevo più un euro era un dramma mi sono detto ok devi cercare in qualche modo se vuoi di fare qualcosa che sia attinente alla musica quindi a un certo punto avevo questi miei amici che avevano un piccolo pub e io sono andato lì e gli ho detto ok io vengo a suonare qui una volta al mese scusa una volta a settimana ogni venerdì e facciamo improvvisazione magari partiamo anche da brani noti così però creiamo delle nostre delle nostre versioni di brani suono a volte le mie cose facciamo un po' di cose così ma soprattutto faccio suonare anche gli altri quindi sono diventato praticamente direttore artistico di un piccolo posto di cui mi prendevo cura si chiamava Odd Room dove? come? dove? dove era il posto? a Roma nel periodo in cui vivevo a Roma e è stato un momento splendido prima cosa perché suonavo tanto e vedevo proprio la gente che era felice di ascoltarci perché avevamo creato la nostra casa si chiamavano facevamo queste serate che si chiamavano The Divano perché eravamo tutti seduti sul divano e suonavamo con un batterista lì e poi facevo suonare tanti artisti della scena romana piccoli perché il posto era molto piccolo ma era un posto che curavo sotto tanti punti di vista anche esteticamente rompevo le scatole tipo mettiamo le candele qui creiamo questa atmosfera tutto per rendere giustizia alla musica perché chi veniva lì dentro doveva immediatamente percepire un senso di intimità e quindi non poteva stare lì a urlare mentre uno stava suonando ero uno di quelli che se stava suonando qualcuno mi avvicinavo e gli dicevo scusa c'è un musicista che sta suonando quindi se puoi abbassare la voce grande che a volte tipo ma ma che significa questa cosa che mi ha detto e quella cosa lì mi ha permesso di campare per un po' ancora e finché non ho fatto il primo festival magicamente poi si incassano delle cose tanti no tante porte chiuse tante diventano delle piccole occasioni e quindi e quale è stata per te la chiave di volta cioè da lì qualcuno è venuto in questo locale sicuramente il primo festival sicuramente il primo festival di Sanremo che è arrivato però tramite appunto tante cose che si incassano poi quando le guardi dopo anni dopo pensi davvero alle stelle non so a delle energie incredibili cloud in the sky ok esatto stars in the sky perché perché sembra veramente arrivare dall'universo quella cosa lì quella quell'occasione lì e mi ricordo che avevo fatto questo album con questo produttore che avevo conosciuto in un locale suonando una sera siamo diventati amici e alla fine lui ha creduto tanto in me in questo progetto Daniele Tortora che saluto ed è un mio carissimo amico oggi ancora e ci capita ancora di lavorare insieme e abbiamo prodotto lui aveva questo piccolo studio e abbiamo prodotto questo questo primo album ma così nei ritagli di tempo quando lui aveva lo studio libero quando era possibile però questo ci ha permesso di fare un lavoro anche intenso e molto dettagliato perché è durato tanti mesi e quindi avevi tanto tempo per riascoltare riaggiustare all'interno di questo brano c'era una cover di Fabrizio De Andrè ok amore che viene amore che vai che noi facevamo live io con la band facevo live siccome vedevo che al pubblico piaceva tanto ho pensato di inserirla nel mio primo album un giorno ho dato questo album quindi già finito ma che non era mai uscito aspetta Antonio che ti vedo come biglietto da visita aspetta aspetta monti non ti vedo più ok ora ti vedo mi senti ti vedo frizzato aspetta ricollegati a questo link guarda vediamo se torna ma grandissimo grandissimo sono come se stessi vedendo un film con la storia che si srotola davanti il protagonista adesso sono curioso di sapere qual è stato il passaggio che ci ha portato da quel mondo di matrimoni tutte le difficoltà ad oggi siamo fortissimi l'aneddoto del matrimonio mi ha fatto morire il batterista che ha detto bisogna proteggere la batteria è la prima che spaccano è stato fantastico adesso vediamo se riesce a ricollegarsi in realtà gli stiamo già rubando troppo tempo ma vediamo se riusciamo ancora magari una quindicina di minuti a recuperarlo se si ricollega intanto un saluto a tutti veramente spero che che vi piaccia Raffaella Manghisi mi scuso per la E di prima vedo sempre male i nomi e i cognomi non so perché però non so voi ma a me le storie delle persone appassionano così tanto perché li vedi che poi magari diventano di grande successo in tutti i settori molto famosi e poi la storia dietro che è quella che ti interessa aspetta che eccolo Antonio ma eccolo Antonio eccoci per me in questo momento è come vedere un film dove c'è il viaggio dell'eroe che però adesso voglio capire non puoi darvi adesso voglio capire hai prodotto questo con questo produttore ma c'era già gli Spotify i cosi social oppure guarda erano proprio i primissimi mesi forse di Spotify ok ok però non ancora addio immagino non l'avevamo ancora pubblicato anche perché poi ho fatto ho dato questo album a Daniele Lucchetti regista regista di Mio Fratello e Figlio Unico la scuola insomma di film anche importanti del cinema italiano l'ultimo è Lacci e Daniele Lucchetti ricordo che ascoltò questo album e mi chiamò una cosa assurda per me perché di solito era Rodavi così e ciao grazie invece lui mi chiamò e mi fece per un'ora al telefono la critica di tutto l'album e io dicevo non ci posso credere cioè Daniele Lucchetti uno dei miei registri preferiti che mi sta dicendo questo pezzo è bellissimo e ricordo che lui mi disse della cover di DeAndrea mi disse guarda io attraverso questa cover riesco a capire tanto chi sei tu perché l'hai riarrangiata talmente in un modo personale che insomma secondo me è molto potente niente un giorno mi richiamò e mi disse che voleva mettere quella canzone sul finale del suo film quindi puoi immaginare la mia gioia decidemmo di far uscire questo album e poi Daniele doveva andare ricordo a che tempo che fa a presentare il suo album e io chiamai il mio ufficio stampa scusa il suo film doveva presentare il suo film e io ricordo che chiamai il mio ufficio stampa e gli dissi perché non chiedete a Fazio a che tempo che fa alla redazione insomma di farmi andare a suonare lì e loro ricordo che risposero guarda noi abbiamo gli due madonna per quanto ci piaccia veramente tanto questo questo brano sinceramente non ce la sentiamo di farvi uno sconosciuto così però sappiate ufficio stampa che noi facciamo il festival quest'anno perché Fazio faceva il festival quell'anno lì quindi secondo noi lui è uno molto valido magari se ha un pezzo da presentare per le audizioni appunto delle nuove proposte noi lo ascoltiamo volentieri e allora io scrissi questo brano cioè in realtà era un brano a cui stavo già lavorando e pensai potesse essere un brano da portare al festival un brano molto difficile anche non un brano tipicamente pop un brano che si chiama Babilonia lo presentai e arrivai fino appunto a fare le audizioni ricordo feci questa audizione in cui vedi proprio questa commissione che mi guardava in maniera emozionata cioè quindi mi emoziona ancora di più cantai un pezzo difficile da cantare di mattina lo cantai la mattina tipo alle 10 alle 9 e mezza quindi me l'ho svegliato tipo alle 6 quindi che non è una cosa buona per la voce e andai via di là dicendo ma mi sa che ho fatto bene cioè ho fatto il massimo e mi chiamarono al festival e quindi lì c'è stato un primo punto di svolta ma poi è stato lunghissimo tante tante esperienze ancora ancora tanto tanta fatica insomma veramente potente potrei siamo un'ora e venti io potrei parlare veramente per non lo so una giornata intera mi vengono in mente una marea di aneddoti per fortuna ho vissuto tante esperienze spero di viverne tante perché tutto questo mi ha fatto crescere proprio come essere umano come uomo la musica è veramente una possibilità importante è motivo per cui a mio avviso credo sia necessario utilizzarla anche nelle scuole perché abbatte delle barriere ti permette a volte di salvarti proprio la vita perché ti appassioni è una passione per quanto possa dannarti anche in qualche modo ti salva la vita ti permette di provare a migliorarti come essere umano quindi sono felice anche di aver sofferto così tanto e di continuare a farlo e di continuare a mettermi in discussione provare a migliorarmi provare a crescere proprio come essere umano utilizzando la musica e dal punto di vista musicale in questi anni su che cosa hai lavorato perché sai uno ti guarda dall'esterno viene a un tuo concerto come dire sei già perfetto nel senso se uno non è un addetto ai lavori c'è una voce pazzesca non lo so ecco invece dal tuo punto di vista dov'è che lavori musicalmente? dal mio punto di vista io mi prenderei abbastonate nel senso che so che potrei fare tanto di più so il modo in cui sono fatto ho imparato però anche a un certo punto ho capito che dovevo anche convivere con questo mio modo di fare io sono per esempio un grandissimo fan di Troisi per me Troisi è proprio stato un artista fondamentale un po' quello che dicevo di Baggio è quasi un parente per me è uno zio che non ho mai poi avuto la fortuna di conoscere ma una persona veramente speciale e ricordo alcuni suoi racconti di questa sua pigrizia di questo suo passare delle giornate sul divano a non far niente a star lì a pensare o comunque a viversi questa vita in un certo modo che però poi forse gli permetteva a un certo punto di tirar fuori delle cose io ho capito che quando mi sforzo tanto ottengo dei risultati però deve arrivare quello sforzo anche dopo dei periodi di anche quasi pigrizia anche di tranquillità di pensiero di vita periodi in cui raccogli vita in cui ti riempi perché altrimenti poi di cosa parli nelle canzoni di cose però questo ovviamente mi fa anche pensare al fatto che io insomma dovrei stare studiare molto di più stare molto di più concentrato su certe cose e poi più cresci più fisicamente cominci a sentire delle difficoltà o delle o comunque ti rendi conto che i recuperi anche sono molto più lenti allora capisci quanto è utile puoi studiare quanto è utile padroneggiare proprio il mezzo che hai perché quello ti aiuta a non farti male ti aiuta a è come l'atleta no? cioè un atleta che si allena bene sempre ha meno possibilità di di farsi del male se poi tu improvvisamente fai lo scatto e non ti allenavi da mesi è possibile strapparsi farsi male ma soprattutto hai più difficoltà alla fine della prestazione anche quindi io quando non sono mai soddisfatto quando io finisco i concerti penso sempre e anche mentre suoni a volte percepisci c'è una cosa che dico spesso chi sta sul palco percepisce tutto percepisce ogni movimento ogni se uno si tocca l'occhio lì se uno si gira dall'altra parte lo sbadiglio o la distrazione sul cellulare poi col tempo e l'esperienza impari a giocare anche un po' con quelle cose però mi piace pensare di fare tanti concerti anche perché so che mi danno la possibilità di crescere e di riempirmi della vita che poi di cui necessito anche per per scrivere finché avrò voglia di farlo e come fai invece a gestire il successo passato perché creativamente no da un lato diventa facile riprodurre la stessa cosa che hai fatto che ha già funzionato diciamo ok rifaccio quella più o meno ci sono molti artisti che hanno fatto così hanno quel tipo di pezzo e poi più o meno qualcosa cambia ma più o meno è sempre stessa insomma ma hanno il pubblico che vuole quella cosa lì dall'altro lato invece se tu magari vuoi spaziare vuoi esplorare anche diverse modalità una tua vena creativa che magari in quel momento cambia perché tra dieci anni sarai completamente no devo dire che ovviamente ottenere dei risultati da una parte ti dà una grande gioia dall'altra ti crea anche delle tensioni delle ansie che prima non avevi è normale no è come doversi confermare dover in realtà probabilmente anche tutta questa esperienza lunghissima che io ho vissuto perché comunque ci ho messo tanto per fare per arrivare dove sono adesso e spero di continuare e mi ha permesso anche di vivermela un po' più con serenità perché perché ho avuto modo di vedere diverse sfaccettature di questo lavoro e perché ripeto ho fatto quella scelta a un certo punto in cui mi sono detto comunque vada farai questo quindi il giorno in cui sentirò di dover fare un album molto intimista molto molto poco radiofonico o molto poco facilmente ascoltabile lo farò e credo sia anche il modo migliore per rispettare chi ti ascolta portarlo con te all'interno di qualcosa di reale di una crescita reale spero sinceramente di sfidarmi sempre perché anche poi riuscire a comunicare è una grande sfida però di farlo sempre con la massima sincerità hai degli artisti che in questi anni si sono diciamo uniti a te o ti hanno contattato o tu li hai contattati perché c'era proprio un'affinità elettiva e dici ok non avrei mai immaginato di lavorare con o chi anche ti piacerebbe contattare con chi vorresti lavorare ho avuto molte collaborazioni vedi Roy Paci con cui ho fatto anche un festival Daniele Silvestri che mi ha fatto partecipare a un suo tour un po' di anni fa con cui poi ho collaborato anche in studio Manuel Agnelli negli After Hours insomma ho fatto collaborazioni poi con con Busta insomma ho avuto Busta di Subsonica ho avuto molte molte opportunità e sono tutte cose che ti fanno crescere tanto e che ti permettono anche di diventare altro che è un aspetto bello proprio rispetto anche a ciò che dicevi prima tu hai quella leggerezza di dire vabbè qui gioco mi sposto un po' più nel suo mondo e ho magari un'attitudine diversa da quella che potrei avere stando da solo l'unirti ad altri artisti ti permette di scoprire delle parti di te che altrimenti non avresti in quel momento esplorato poi su dimmi dimmi no no ero così curioso di capire se hai degli artisti dei personaggi con cui vorresti collaborare mi piacerebbe provare a fare delle cose con degli artisti internazionali ed è un periodo in cui sto mi sto guardando molto intorno cercando anche perché ovviamente è difficile andare da Paul McCartney e dirgli Paul facciamo un pezzo insieme un po' difficile quindi devi trovare degli artisti che siano c'è scusa c'è Montemagnovic a Brighton quello che suona il clarinetto lui mi sembra ne parlo molto bene ancora non ho ascoltato bene ma ora che finiamo vado subito su Spotify magari aspetta ascoltare per un po' no però mi sto guardando intorno in questo periodo perché l'estero effettivamente è un mondo come dire il mondo è grande adesso con le piattaforme Spotify eccetera ne parlavo anche con Caparezza anche le serie televisive che un tempo erano solo magari confinate al proprio paese è molto grande e che ora è più raggiungibile di prima secondo me quindi mi piacerebbe fare delle collaborazioni internazionali ci sto lavorando e sto cercando anche gli artisti ho degli artisti che mi piacciono però Nunzia Signoriello ti suggerisce Dua Lipa te lo sai già così mi sembra se per Dua va bene io ci sono dimmi solo e poi ti lascio andare ero curioso di capire una tua giornata attivo perché dovevo interessare qualche tempo fa un moto aspetta solo un secondo perché sto veramente per cambio tutto il punto di vista adesso così qualche altro che si sta per scaricare aspetta eh mi aspetti un secondo vai abbiamo veramente cioè siamo andati non lunghi ma lunghissimi altrimenti ragazzi cosa facevo lo lasciavo andare così di solito adesso Antonio perché è molto gentile se no ti sgridano proprio nel momento in cui sgarri di 30 secondi purtroppo le agende sono sempre casinate ok leonora suggerisce colplay consolata chicca coppa suggerisce moby potrei connettere il nostro dio dato con moby questa è una cosa che potremmo fare moby non mi dispiacerebbe so che sentire solo la voce l'unica cosa è che ti dovrai probabilmente tatuare tutto di tatuaggi di animali e questo è l'unico dettaglio perché cambiare un po' tutta l'impostazione ma per caricare perché si stava scaricando no dicevo moby l'ho intervistato di recente e l'unico problema è che dovrai tatuarti animal rights sai che lui è solo vegano animalista quindi devi parti tutte ma dato pagato questo prezzo diciamo per il resto beh lui è interessante beh sì sarebbe interessante lo faccio un pezzo faccio lui aveva fatto quella versione del natural blues ti ricordi bellissimo però spesso lo faccio dal vivo uno dei pezzi che mi diverto di più anche a rivedere però mi ricordo quell'album che si chiamava Play che mi aveva proprio cambiato anche la visione quindi perché no ma dimmi se tu devi scrivere un pezzo che cosa succede cioè dall'inizio proprio inizio inizio non hai idea stai camminando per per strada e a quel punto hai detto hai detto una cosa importante stai camminando per strada io scrivo tanto camminando veramente sì cioè sarà capitato a un po' di persone di vedermi per strada e pensare pazzo non fa bene cioè faccio proprio delle lunghissime passeggiate per a volte chiarirmi le idee per per far fluire però ogni volta è una una cosa nuova ogni volta è una magia nuova che poi anche il bello di questo di questo lavoro qui no perché ha a che fare con con l'interiorità ha a che fare con la tua emotività con le sensazioni c'era un periodo mi ricordo in cui andavo andavo al mercato la mattina e lì sentivo no che uno pensa beh di notte anche quello ci sono anche quelle serate quelle nottate che passi lì a scrivere però ricordo che andavo al mercato e mi riempivo di tutte queste voci no immagina no eh comprate tutte queste voci qui questa vita che che ti quasi ti aggrediva e mi è successo un po' di volte di tornare e mentre tornavo a casa mi venivano in mente delle cose delle melodie a volte si parte da quello altre volte invece parti proprio da un concetto che vuoi raccontare che vuoi esprimere da una storia che vuoi raccontare e pian piano ti ci metti lì provi a suonarla provi a metterla in musica e in melodia e poi pian piano costruisci il brano però le soddisfazioni più grandi arrivano quando scrivi quei brani in dieci minuti wow cioè fai rumore per esempio è un brano nato così proprio di getto poi ovviamente cambi delle cose cambi la frase lì cambi quella parola però io ho delle registrazioni che fanno venire i brividi perché senti proprio nascere il brano cioè ho delle registrazioni di che vita meravigliosa che ho scritto in una stanza di hotel e io mi ricordo benissimo tutto e ce l'ho registrata e senti il giro di accordi che poi cambia lì poi lo ricambio così la melodia che pian piano diventa quella cosa lì e alla fine già canto ah che vita meravigliosa questa vita dolorosa già arrivo a quello quindi lì è già fatta praticamente poi devi trovare il modo giusto per dire tutto quello che vuoi dire però ma come fai a capire quando è pronta la canzone perché io non riuscirei mai ad avere una canzone pronta e avrei sempre qualcosa da cambiare da aggiungere ma però forse se questo lo faccio come fai a decidere però capisci quando le persone con cui lavori cominciano a romperti la chitarra in testa quando fanno quella cosa lì capisci che devi smettere matta perché anche io sono così uno dei problemi della registrazione rispetto al live è proprio quello è che diventa definitivamente quella quella cosa lì è un problema perché poi a volte anche per fortuna perché a volte riesci veramente a fissare qualcosa però secondo me se dovessi dare un consiglio io suonerei prima di registrarli forse non tutti perché alcuni devono essere registrati proprio nel momento se ne hai la possibilità in cui tu stai provando quelle cose in cui tu le stai vivendo in cui tu sei quella cosa lì anche quell'illusione quella leggerezza che poi di cui magari ti vergognerai poi più avanti però tu in quel momento sei quella cosa lì quindi è bene alcuni brani registrarli in quel momento ma altrimenti io consiglierei a tanti di suonare tanto i brani dal vivo se è possibile prima di registrarli perché impari a cantarli in un altro modo perché ci metti un'altra intenzione perché li asciughi anche di più paradossalmente arrivi sempre di più a un'essenza e ti rendi conto subito della reazione del pubblico e della tua reazione a quella reazione cioè indifferenza oppure dici quella frase ma mentre la dici pensi oddio che vergogna ok quindi hai un sacco di riscontri da quel punto di vista quindi quello è un consiglio motivo per cui spesso i primi album per quanto siano poi acerbi sotto tanti punti di vista però sono sempre delle perle importanti delle carriere degli artisti perché sono stati spesso suonati dal vivo per anni sono stati sono un po' un bignami delle esperienze vissute all'inizio no? e quindi hanno quello spirito romantico molto molto bello secondo me e poi alcuni pezzi restano per sempre alcuni sono proprio dei sempreverdi Giuliano San Giorgio l'altro giorno ha detto una cosa che mi è rimasta impressa faceva l'esempio di una sua canzone se avesse detto quando tutto scorre dentro MySpace è chiaro che avrebbe confinato quella canzone a un periodo storico che poi possono capire solo quelli in quel momento lì invece se tu riesci ad andare sulle emozioni più vere sempreverdi a quel punto sono brani che restano tutta la vita ecco se funzionano e quindi anche questo magari è uno sbaglio quella è una magia che insomma purtroppo non puoi controllare più di tanto nel senso che i sempreverdi a mio avviso sono poi quei brani in cui veramente riesci a raccontare te stesso ma sono quei momenti in cui sei veramente aperto quando riesci a cantare quella cosa che c'è nell'aria quella cosa che se non lo fai tu probabilmente lo farà qualcun altro di lì a breve è un po' quella cosa lì e sono quelle quelle canzoni che appunto non hanno tempo e che poi valgono per tutti no quindi possono valere per uno del 2000 2005 ora non mi ricordo più o meno la 2005 per esempio quel brano di Giuliano e se lo ascolti oggi comunque dici ok mi sta raccontando anche oggi Antonio intanto mi scuso per il mega ritardo in cui siamo ma era troppo interessante e qua devo dire ho il sostegno di tutta la chat che dice grande grande ma adesso ci fermo perché devi andare se no poi giustamente i tuoi mi inchiodano dimmi solo una cosa come come giornata che ti aspetta adesso pre-tour e durante il tour qual è il dietro le quinte cosa succede nella tua giornata ora in preparazione e poi durante il tour come funziona allora pre-tour adesso comincio a ragionare sui brani che voglio aggiungere la scaletta l'impostazione di band sarà più o meno la stessa dello scorso anno quindi sarà un live molto suonato molto vero molto musicale musicalmente pieno con tanti musicisti sul palco perché ci saranno otto musicisti sul palco insomma che di questo in questo periodo non è cosa facile quindi ragiono sullo spettacolo sulla scaletta mi confronto con tutto il team quindi anche il light designer le scenografie tutti questi aspetti qui cominciamo a intensificare un po' anche un'attenzione alla parte fisica per il fiato per aumentare un po' la la prestazione anche proprio fisica di cui è bisogno durante i concerti comincio a ricantare i brani ricantandoli a quel punto a volte assumono altre intenzioni e quindi ti si accendono delle immagini e pensi ok allora questo potrei farlo lì in un momento prendo la chitarra e suono questa cosa qui da solo questo invece che ho fatto l'anno scorso intimo quest'anno lo voglio suonare con un bell'impatto cominci a ragionare su queste cose qui a confrontarti con i musicisti e poi cominciano le prove vere e proprie in cui capisci tanto percepisci proprio l'energia capisci se hai pensato delle stupidaggini o se invece avevi ragione e cambi tante cose e poi le prove le fai dove in uno studio le prove le faccio inizi prima in una facciamo prima una sala prove grande in cui si possa appunto suonare anche in tanti e prima si fa in una sala prove e poi fai quello che è l'allestimento cioè di solito si fa in grandi club o comunque su palchi che in qualche modo ripropongano quelle che saranno le condizioni le situazioni in cui andrai a suonare e in cui appunto provi tutto provi le luci provi lo spettacolo provi il più possibile in modo da arrivare anche con degli automatismi che ti aiutano poi durante i concerti e poi quando parte il tour lì di solito salvo appunto grandi modifiche che devi fare hai il soundcheck prima appunto dei concerti che diventa un po' una piccola prova in cui rivedi alcune cose che non ti sono piaciute quella sera oppure dici guardate ho cambiato in scaletta questa cosa qui vogliamo provare questo passaggio e sono momenti in cui aggiusti il tiro metti a fuoco o semplicemente cambi perché vuoi cambiare una serata all'altra vivi un po' in giro a seconda della distanza che c'è tra le date vivi molto insieme agli altri ed è una cosa bellissima fai queste cene con tutto il team tutta la squadra e come vi spostate in pulmino stiamo sì con dei van con appunto c'è la produzione che si sposta con furgoni camion a seconda appunto delle cose che ci sono da portare c'è ci sono delle macchine e van ora dipenderà anche da perché per esempio lo scorso anno non si poteva andare in più di un certo numero nella stessa vettura era un bel casino anche da quel punto di vista però io non ho voluto limitare nonostante quelle limitazioni lì il numero di musicisti anzi ho voluto farlo crescere perché avevo proprio bisogno di sentivo che era il momento in cui bisognava portare la musica in giro no e e avere e poi venivo ovviamente anche da un momento di grande esposizione quindi potevo permettermi di fare determinate richieste e sono contento di averlo fatto e quindi proseguiamo in questa direzione anche questa estate e poi appunto tra una data e l'altra dipende a volte hai dei giorni liberi in cui te restai in vacanza in un posto giri o magari arrivi la sera prima a Taormina e ti fai un giro di Taormina o appunto hai tre giorni tra una data e l'altra e pensi torno a Milano o me ne sto in un posto lì vicino è anche un momento bello per scoprire posti nuovi è una delle cose più belle che mi scrivono le persone quando vengono ai concerti dopo e anche grazie perché seguendoti durante il tour ho scoperto questa città ho scoperto quanto è bello il nostro paese mi sono ricordato di quanto è bello il nostro paese e le persone che devi assolutamente avere al tuo fianco in un tour a parte i musicisti chi sono del tuo staff se dovessi consigliare sicuramente c'è il diciamo il tour manager e è proprio anche poi il manager personale io viaggio spesso proprio con il mio manager con cui poi cerchiamo di gestire un po' il tutto è una figura fondamentale ma anche appunto tour manager direttore di produzione del tour cioè avere un rapporto poi ho un rapporto molto di fratellanza proprio non ho quel tipo di divisione che che non so neanche se poi c'è però magari in tour molto molto grandi è difficile che l'artista possa stare con tutto lo staff di tutto perché hai anche proprio tempi diversi invece io sono ancora in quella fase in cui posso avere proprio un rapporto diretto quindi cena sempre insieme viaggi in cui anche se arriviamo in momenti diversi perché abbiamo macchine diverse poi siamo insieme lì si pranza si cena sempre tutti insieme insomma riesci a vivere proprio un rapporto diretto con tutti che è la cosa più bella è bellissimo poi durante i concerti guardarsi sorridersi e sentire che stai facendo qualcosa di speciale con delle persone speciali io cerco di circondarmi di persone speciali poi sono ovviamente dei grandissimi professionisti ma sono soprattutto cioè il punto di partenza è che sono delle belle persone perché viene tutto più facile secondo me cioè non è solo è proprio che la devi molto meglio anche perché vivi anche momenti di cattività no? stanno tutti sempre lì tutti insieme è obbligato a stare sempre insieme quindi è bene viverselo con delle persone assolutamente amici senti Antonio ti ringrazio davvero tantissimo è stato è stato bellissimo mi è piaciuto moltissimo guarda io chiacchiero con un sacco di persone ma non lo so è un po' il modo tuo anche di raccontare di spiegare l'umiltà che hai che veramente sono ipnotici e quindi sarei stato qua ad ascoltarti sette ore ma ci dobbiamo fermare qua in chat però mi fanno notare che se un giorno farai un film o un documentario su di te o se verrà fatto un film su di te ovviamente ci deve essere la scena del matrimonio dentro capito quella deve essere fondamentale perché era un po' quello ormai non si può più ora che l'abbiamo anche raccontata qui sarà parte proprio la scena di apertura quella sarà e magari potrebbe essere esatto la scena con cui si ama con la buccia fuori campo è iniziato tutto da qui il batterista proteggetelo è una cosa che spacca una batteria in bocca al lupo davvero per il tour e per tutto sei straordinario grazie Monti e speriamo di poterci abbracciare di persona presto ci vediamo la prossima oppure se fai una tappettina qua a Brighton e io arrivo spero di fare presto un tour in giro per l'Europa quindi magari quello sarebbe fighissimo e così conosco anche questo Montemagnovic come si chiama Montemagnovic arriverà a supportare la materia parlano tutti e magari l'onvita su canale grazie Antonio un abbraccio alla prossima ciao 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 Monti ciao